Nicola si riparte dalla dodicesima posizione degli europei che da un lato è stata una conferma di quello che avevamo fatto l'anno prima quindi del fatto che l'Italia ha saputo stare ancora tra le migliori 16 d'Europa dall'altro lato ci ha fatto un po' arrabbiare perché bastava arrivare un gradino più in alto per andare direttamente ai mondiali Sì, ci ha fatto un po' arrabbiare ma non ci siamo demoralizzati, anzi abbiamo cambiato solo l'obiettivo ora ci stiamo allenando bene perché non vogliamo sprecare un'altra possibilità ci siamo andati veramente vicino agli europei anche pur avendo fatto un buon europeo ora cerchiamo di dare il massimo a queste tre partite e di portare a casa questa qualificazione Da un punto di vista di approccio mentale a queste qualificazioni troviamo tre squadre con cui abbiamo sempre fatto un risultato positivo in gare ufficiali o pareggi come nel caso della Croazia o vittorie e poi arriviamo da questi due dodicesimi posti che comunque sono un segnale, lo diceva anche il capitano Jack Rovatin, del potenziale di questa squadra non arriviamo in rincorsa, a dover rincorrere gli altri Sì, forse cambia qualcosa rispetto agli europei perché agli europei arriviamo con la mentalità magari di non essere la squadra più forte dover fare il risultato per forza arrivare primi, ora cambia qualcosa dobbiamo vincere e sì, il gruppo c'è, siamo un bel gruppo, stiamo lavorando insieme da tanti anni penso che sarebbe la ciliegina sulla torta per questo bellissimo traguardo che possiamo raggiungere tutti insieme come squadra anche pur avendo delle assenze, ora vedremo chi sarà e chi no, però non ci tiriamo indietro e vediamo di portare a casa il risultato, ci proviamo Una squadra che tra l'altro oltre ai, tra virgolette, veterani, non si può usare questa parola in Under 21 ma ne abusiamo un pochettino, ha inserito anche alcuni elementi nuovi che stanno facendo bene in campionato e poi ci sono quei ragazzi più giovani come Manojlovic, come De Angelis, Wierer che vi hanno già dato una mano alle scorse campionate europee Sì, i ragazzi del campus ormai non li possiamo più chiamare novità perché ormai sono parte integrante del gruppo ci danno una mano veramente importante, ormai sono entrati nel giro dei titolari, poco ci manca e contiamo su di loro, noi veterani come hai detto te, per abusare della parola però sì, siamo un gruppo un po' nuovo, con qualche elemento nuovo ma comunque la base è quella non abbiamo fatto niente di nuovo in questi allenamenti, stiamo solo cercando di rafforzare quanto fatto negli anni Una panoramica sull'avversario Croazia-Montenegro-Israele? Sicuramente la Croazia sarà l'avversario forse più temibile Poi comunque il Montenegro, abbiamo fatto una partita agli europei, non è stato per niente facile ci siamo riusciti a spuntarla, Israele non ci abbiamo giocato l'anno scorso agli europei ci abbiamo giocato agli europei prima, abbiamo vinto ma comunque è stata la partita decisiva per poi salvarci quindi siamo tutte squadre dello stesso livello, secondo me non possiamo entrare con una mentalità sbagliata o sbagliare troppi palloni come magari è successo in qualche partita agli europei dobbiamo entrare concentrati, sicuri di noi stessi e sono sicuro che si può fare grazie